E siamo tornati con un altro episodio della nostra carriera allenatore con il Salford su FIFA 20 Sto registrando tutti questi episodi di fila in questo weekend Il primo weekend di ottobre Poiché sapete perfettamente che con l'università non ho tempo per registrare tutti i giorni e pubblicarvi il video Quindi mi anticipo il tutto In questo episodio Crew Alexandra, Donkester e Forest Green Rovers Scusate la vecchia conoscenza del canale e vista la carriera su FIFA 18 Con l'FGR e basta queste tre partite di quest'oggi Vi ricordo che stiamo andando molto piano Ma comunque la tabella sarà sempre lunedì e venerdì per tutto l'anno Stiamo andando piano, tre partite di episodio perché stiamo aspettando la patch d'aggiornamento E poi si verrà il tutto Molti mi stanno dicendo Eh King ma poi quando uscirà la patch tanto a te non serve No ragazzi si tratta di codici che verranno messi Codici, codici che già sono all'interno del gioco e quindi verranno sistemati Quindi di conseguenza uno pensa e dovrebbe essere così che questa patch andrà ad aggiungere diciamo le correzioni anche alle carriere in corso già iniziate O almeno si spera dovrebbe essere così Poi non si sa mai Ormai abbiamo iniziato andiamo avanti Abbiamo il Crew Alexandra come prima partita Siamo quinti in classifica Eh affrontiamo il Don Caster in Carabao Cup Ce la gioveremo quella con la formazione per il turnover perché abbiamo una League 2 che è molto più importante per noi quest'anno Detto questo la formazione scende in campo è questa Ci arriverà anche l'ultima relazione del nostro osservatore della primavera in Inghilterra Questo episodio nel primo di ottobre Ultima relazione poi lo manderemo in una di quelle tre nazioni ma credo che sarà la Scozia la prossima nazione Sinceramente mi ispira di più tra le tre E niente andiamo contro il Crew Alexandra Crew Alexandra è già con Booth Lundstram, Lancashire poi Hunt, Pickering, Offord, Heath, Henley, Dale Anen, Anene forse E Kirk là davanti 4 e 3 Per il Crew Alexandra Crew Alexandra che non è messo benissimo in campionato Ma come sempre League 2 come avevi detto voi E come dico io È sempre un campionato dove è 50 e 50 ogni singola partita Dale Heath Palla dietro, bravo Whitehead E poi andiamo da Tawel Buona version Claire Allora possiamo partire in contropiede con Claire Che va da Turai Bella palla per Ibu Turai Che deve andare in velocità Tantissimo spazio Che va sul mancino Turai, Turai Lo prova Ibu Turai Si leva la gioia del gol a nono minuto Primo gol stagionale per lui Il numero 3 Trova un gol Stupendo Contropiede fatto perfettamente la parte nostra Claire Trova Turai Che poi in velocità Si fa tutta la fascia Si accentra E bomba Con il mancino La classico Terzino a tutta fascia Questo gol Ibu Turai Trova il vantaggio per noi Turai Anticipa l'avversario E poi va da Whitehead Buona per Turai Attenzione ancora A Loder Che si fa vedere posizione Regolare Di Danny Loder 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 Ce l'ha sul destro Loder sul primo palo Sbaglia clamorosamente Un gol già fatto Danny Loder Turai comunque è in formissima Attenzione a Danny Ci siamo fatti bucare qua Anene Anene Palla al lato Al ventunesimo Crew Alexandra Che ha provato subito A trovare il pari Anene Il numero 17 Spreca questa occasione Kirk Il ventitresimo Contro Calambai Cross In mezzo Bravo Con la testa qui Da allontanare Baldwin Claire La mette giù Con eleganza Elegante Sean Claire Passa sull'uomo Con una finta Va ancora Claire Controlla anche Shire stavolta Buona per Rooney C'è per via centrali Loder Viene trovato Loder Claire Può allargare tutto Verso Gervis Jake Gervis Fa un passaggio Ed è corner per noi Le strafifizioni Del crew Alexandra Non ha tanti problemi Io avevo piazzato sul secondo palo Ma ha tirato sul primo Gervis Grandissima Azione stile Diciamo Rebistico Quest'azione è una parte nostra Ricita Well La mette in mezzo Un po' troppo dietro Ci arriva Gervis Palla in mezzo Per Rooney Con il mancino Traversa piena Ancora palla in mezzo E Booth La blocca Attenzione 2 contro 2 Kirk Servito C'è il tiro Le De Ren La blocca E va poi da Calambai Che controlla Il pallone numero 30 Calambai Si fa tutta la fascia E va da Rooney Attenzione all'Oder Servito Turai solo sulla fascia E viene servito Tanto spazio per lui Ancora Turai Turai In mezzo c'è Claire Lo cerca Sul secondo palo Sean Claire 2-0 Salford 1-2 Due occasioni per noi Non sprecate E siamo andati Veramente bene qua In contropiede Noi facciamo Veramente paura Alle squadre avversarie Comunque Ci ho fatto Ci ho fatto caso In queste partite Soprattutto in questo periodo Diciamo Post inizio Stagione Veramente bene In contropiede Abbiamo giocatori Non velocissimi Ma molto tecnici Che ci permettono Di ripartire in contropiede Come vogliamo Calambai Lex Wimbledon Si prende lo spazio E va da Tawel Ottimo il suo controllo Passa Ricci Tawel Si appoggia verso Whitehead Il 71esimo Loader Controlla Si gira Danny Loader Chiuso sul più bello Ancora Loader Combatte Ma non riesce a passare Whitehead Controlla Allora si torna dietro La Piergiani Adesso Baldwin E poi Calambai Ottimo il nostro giropallo Non stiamo facendo capire niente Al crew Alexandra Gervis Prova ad entrare Jake Gervis Non si fa vedere nessuno Si fa vedere adesso Rooney Che viene servito Rooney si gira Loader Ancora Gervis Ancora in mezzo Ancora Loader Ancora anticipato Palla che viene allontanata Turai Non finisce più La nostra azione offensiva Tawel Finta Buona per Claire Che la controlla Un po' male Rooney Rooney Lo prova con il destro Corner per noi Quanto occasione Il giro di 10 minuti Per noi in questo secondo tempo In un primo tempo Dove Abbiamo giocchicchiato Niente di che Siamo andati subito Non avanti E poi Basta Era finita là La nostra Prestazione del primo tempo Questo secondo Veramente bene Anene Chiuso Da parte di Pergiani Può vincere in pallo Lederan Fa un vero e proprio Miracolo sul colpo di testa Dalla parte di Kirk Al Novantunesimo Esce Lundstram Intanto Troppo per ring Ah è qui Vabbè Si parla di leggenda Cross in mezzo Eccolo qua Ang Primo pallone Tocca Green Novantaduesimo Manteniamo questa Gneshit Powell Torna dietro Partita che sarebbe finita In realtà Green Cross in mezzo Turai Allontana E finisce qua Vinciamo 2-0 Fuori casa Contro il Crew Alexandra In un campo Non semplice 2-0 per noi In gol Turai Ma soprattutto Sean Claire Migliore in campo Ibu Turai Gol e assist Vediamo un po' se c'è qualche Nuova domanda Sarei veramente Sono interessato A vedere se ci sono Nuove domande Sinceramente Pensate che Riuscire a proseguire Questa striscia E siamo imbattuti In League 2 Ma non è vero Perché abbiamo Perso 3-0 Contro il Plymouth Ma vabbè Non deve diventare Un'ossessione C'è un motivo Se siamo imbattuti Abbiamo i giocatori giusti Ma Non siamo imbattuti E quello è il problema Io come faccio A rispondere a questa domanda Abbiamo i giocatori giusti Così a caso Risultato Noi puntiamo Una prossima partita Un pareggio Abbiamo quello che serve Per prolungare La nostra striscia Vabbè Pensate che Viste la sua squadra E la formazione Cruale Alexandra Viene considerate Sello stesso Ialle alla vigilia Praticamente noi siamo Pari livello A tutto il campionato South for City È un club vincente No Siamo sempre pronti Al peggio Non siamo al top Non siamo al top Non è vero Siamo sempre pronti Al peggio Ma è una domanda Che non capisco Noi eravamo troppo preoccupati Anche se qualche dubbio c'era Meno male che abbiamo vinto Non ho capito questa domanda Una vittoria convincente oggi Per 2-0 Le è piaciuta la prestazione Della sua squadra Vediamo un po' Le opzioni che ci danno Ora dobbiamo pensare Alla prossima partita Possiamo fare ancora meglio Avremo potuto vincere Con più gol Ora dobbiamo pensare Alla prossima partita Volevamo la vittoria Tutti i costi L'abbiamo ottenuta Non mi interessa Troppo analizzare La prestazione della mia squadra Siamo già con la testa Alla prossima partita E queste erano Le tre domande classiche Allora ci sta Smith Che dice Se possiamo utilizzare Nella prossima partita Ci penserò Ci penserò Magari lo metteremo A partita in corso Ma è un giocatore Scandaloso Ok finita Finito lo scouting In Svezia Per il nostro Marcus Bell Di conseguenza Dobbiamo mandare Dobbiamo mandarlo In un'altra nazione Sposto osservatore Direi di mandarlo Facciamo sempre fare La parte Della Scandinavia C'è Norvegia E Danimarca Questi dovesi Però Danimarca Già la conosciamo Molto bene Norvegia Non mi ispira Più di tanto Se no cosa c'è Cosa c'è Cosa c'è Direi di mandarlo In Germania Mandiamolo in Germania Dai Mandiamolo in Germania Vediamo un po' Cosa ci trova Partiamo Tridoncaster Dunque Di Carabao Cup Ci ragioniamo La formazione Per il turnover Come vi ho detto Per il semplice Tipo che Tanto È la Carabao Cup Non ci interessa Più di tanto A noi quest'anno Ho messo Borukov in panchina Ho messo anche Smith in panchina Perché così Lo facciamo Lo facciamo stare Un po' Più tranquillo E andiamo Contro il Don Castro Ovviamente Poi vedremo Se far entrare Smith Loro rimporta Blair John Blaney James Schiff Whiteman Poi Chip Chu Credo si pronuncia così Gomez May E Waters Là davanti È un 4-2-3-1 Largo Quello del Don Caster Ah Ovvio Non l'avevo detto Ma perché mi sembrava Sottinteso Ancora non ho messo Un velocità di gioco Lenta Non so veramente Cosa fare Io Mi dimentico Sempre Sempre Chip Chu Rientra Va da Waters Adesso Gomez Schiff Ancora Waters Palla a lato Di pochissimo Prima occasione La partita per il Don Caster Con il numero 22 Waters Punta unica Bravo A controllare Thomas Sante Ad andare da Maynard Buona per Lloyd Allo spazio Danny Lloyd Va da Deserui Palla forse troppo lunga Deserui La tiene Diventa un pallonetto E al 51esimo E corner per noi Deserui Si allunga qua Per prendere il pallone Lloyd La mette in mezzo Con il mancino Forse un po' troppo di arroce Hogan Con la testa Che stacca Thomas Sante In mezzo Ponda Gol bellissimo Al 52esimo Thomas Sante Ha messo Un pallone splendido Per Nathan Ponda Che di testa La butta dentro Il numero 23 1-0 Per noi Contro il Don Kester Ma che cross Che ha fatto Thomas Sante Sforbiciata E rovesciata Non si è capito Si è buttato In modo clamoroso Per prendere questo pallone Qui si dovrebbe vedere bene Guardate che cross Mezzo tacco Mezza rovesciata Non si è capito Per davvero E poi Nathan Pond Con la testa Su tutti Su Wat No non è Waters Quello Non so chi sia Comunque 1-0 Yux La mette giù Benissimo E va da Smith Primo pallone Che tocca Borukov Serviva Rodney Borukov Passa Borukov Primo lampo Di genio Di Presla Borukov Bastano Due minuti Per infiammare Il Morlane 2-0 Salford Borukov La mette giù In modo delizioso Buona per Rodney Rodney Va da Wiseman 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 Passa Wiseman Wiseman Con il mancino Il portiere però È veramente Scarso Il Donkester 3-0 Salford All'87 Game 7 match Con Wiseman Finisce così Vinciamo 3-0 Contro il Donkester Andiamo avanti In Carabao Cup Stiamo praticamente Facendo un miracolo In Carabao Cup Abbiamo eliminato Per 3-0 Il Barley 3-0 Il Donkester 3-0 Barley Veramente Scandaloso 3-0 Donkester Anche questo Un po' così Ma stiamo andando Meravigliosamente Adesso Conferenza stampa Post partita Eccoci qua Vediamo un po' Queste 3 domandine Quali sono La netta vittoria Contro il Donkester Se l'aspettava Vediamo un po' Quali sono le opzioni Devo ringrazio i ragazzi Sono assaggio di come dovremmo Giocare ogni partita Dobbiamo rimanere concentrati Abbiamo ottenuto Un risultato rotondo Oggi Ma qua è a montarci la testa C'è tendo una partita importante Dobbiamo rimanere concentrati Giusto Contro il gol segnati Dalla scuola Sol 4 City Una vittoria agevole Crede che sarebbe Potuto finire diversamente Oggi Il punteggio è troppo severo Il punteggio è troppo severo Effettivamente così Abbiamo già dato meglio E' meritato di vincere Anche se ritengo Il punteggio è un po' Ingiusto Per la formazione Donkester Ci sono parecchi Vabbè Non ci ha fatto leggere Alla fine Schiff è stato tra migliori In campo Nelle fila avversarie Oggi Quanto è stato difficile Trovare Varche In la difesa Della scuola Donkester Abbiamo fatto La nostra partita Perché alla fine Abbiamo fatto regol Quindi è andata abbastanza bene E queste erano Le tre domande Di Ogni Conferenza Allora Finalmente Smith Rimane tranquillo Sono felice Che abbiamo vinto Nonostante i miei errori Mister Spero Mi darà un'altra chance Per rifarmi Ma perché Lui crede Che abbia giocato male Devi fare meglio Devi fare meglio La prossima volta Martin Scusate Mi chiedi di giocare Poi ti lamenti Che hai giocato male Allora Non va bene Io ho un concetto Molto occasioni Come questa Sennò migliori Potrebbe esserci Non spazio Potrebbe non esserci Spazio per te In futuro Cosa molto Probabile anche Se dovesse giocare bene Allora Ci sono un paio Di relazioni Qua Emil Frederiksen Lo conosciamo bene Carriera al giramondo Gabriel Gudmundson Mi sembra buono Ma Come vedete qua Proprio Nella parte tecnica Zero Justin Eugenia È un giocatore Identico Possiamo dire a Gudmundson Forse un po' meglio Chiediamo di scautare Non è male Gudmundson Per carità Però vedete Non mi convince Nell'altra parte Invece Eugenia Un po' di giallini Ce li ha Invece Per quanto riguarda Il belgio C'è questo Marco Cana Del Dell'Underlecht Che sembra discreto Poi c'è Mohamed Zeroual Zeroual È inguardabile Sinceramente Ok Finalmente Messa Velocità di gioco Lenta Ce l'abbiamo fatta E andiamo a farci La conferenza Flash per noi Tantissimi flash Per noi Per la partita Che Per la conferenza stampa Che precede Il match Il big match Contro il Forest Pensa di poter Triunfare Il League 2 Con la rosa Che ha a disposizione Tutti i giocatori Devono fare La loro parte Certo Tutto può succedere Tutti i giocatori Devono fare La loro parte Non potevamo Sperare In una partenza migliore Fin qui Siamo stati fantastici Spero che tutti i giocatori Faranno la loro parte Per mantenere questa condizione Siamo primi In classifica Hanno urgente Bisogno di punti Considerate la loro classifica Vedete lo stesso per voi Certo Che domanda è Che domanda è Certo Anche noi Vogliamo vincere E il nostro obiettivo In tutte le partite È una domanda Abbastanza banale Questa Vabbè Abbiamo qualche chance Di battere la sua squadra Il Forest Green Vediamo Abbiamo buone possibilità Di vincere Può essere Il nostro calcio E' tutt'altro Che perfetto Il nostro calcio E' tutt'altro Che perfetto C'è sempre la possibilità Con una squadra aperta Per quanto possa essere forte Il nostro calcio E' tutt'altro Che perfetto Ci manca ancora qualcosa A volte caliamo un po' Di concentrazione Finisce qua la conferenza Questa è la formazione Giocherà Formazione itolare Stiamo facendo bene Quindi continuiamo così Siamo a 19 punti Pari punti Con il Grinsby Vediamo un po' Come stiamo messi Non riusciamo ad arrivare Ai 10 gol fatti Ci dobbiamo arrivare In questa partita Dai Forest Green Che gioca con Walcott in porta Poi Sheffard Mills Rosen McKinley Nils Dawson Etchinson William C. Dallin Noi conosciamo benissimo Rosen Visto che Ce l'avevamo Ai nostri tempi Il Forest Green Il resto sinceramente Non Non mi è noto Comunque Anche a velocità lenta A me sembra che il pallone Viaggi Ad una velocità Non normale Claire Loader Palo Secondo in questo episodio Per lui Al quinto minuto Subito occasionissima Con Danny Loader Sfortunatissimo L'attaccante X Reading In questo episodio Prima palo Clamoroso Di prima Con il destro A giro Ma questo Ancora più clamoroso Tau E lì in mezzo Forse Troppo lunga Per Rooney Che comunque la prende Palla altissima Bella palla Per Gervis 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 In mezzo Loader E poi è corner Al quindicesimo Se la stava per buttare Dentro solo Il difensore centrale Del Forest Green Qui occasionissima Per noi Palo qui Clamoroso Comunque Da parte di Loader Anche interno L'ha preso Tau Cross in mezzo Buona Sul secondo palo Gervis Oh Chi l'ha presa Non è gol di Gervis Pier Gianni Car Pier Gianni In rete Va bene così Alzo le mani Alzo le mani Mi sa che l'ha presa Gervis Ma davanti a lui C'era Pier Gianni E l'ha preso sulla schiena Adesso lo vediamo bene Da qua Gol per noi Questo è l'importante Non si capisce Vediamo Si la tocca Pier Gianni L'ha toccata Pier Gianni E vabbè Car Pier Gianni Si prende il gol Allen Contro Calambai Alla meglio Ovviamente Paul Calambai Al trentesimo Allen Dietro da Mills Winchester Rovesciata Inutile Dawson E poi Gervis Allora Whitehead Contro per noi Con Danny Whitehead Si deve far vedere Loader Whitehead Va proprio da Danny Loader Che è velocissimo Passa su Mills Loader 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 Sul destro Loader E vabbè Sfortunato si Se ti mangi Questi gol Però Danny Eccinson C'è Farda Cross in mezzo La smanaccia L'Etheren Abbastanza male Tawel Gervis E poi Whitehead Whitehead Sempre lui che ci fa andare In contropiede Danny Whitehead Buona per Rooney C'è Gervis Che arriva a tutta velocità Viene servito Jake Gervis Buona per Loader 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 Terza occasione Della sua partita Stavolta non sbaglia Danny Ed è 2 a 0 Solfall dal 44esimo 43esimo 44esimo Stiamo là 2 a 0 per noi Importante trovare questo gol Questo raddoppio Prima della fine del primo tempo Andiamo a berci un tè caldo Nella totale tranquillità Pier Gianni Sempre posizionato bene Sempre Pier Gianni E poi Turai Che giocatore che è car Pier Gianni Claire Buona per Tawel Che va da Rooney 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 Tawel 3 a 0 Solford Al 73esimo Game set e match Anche in questa partita Ricci Tawel Secondo gol stagionale Ma questo Solford Se dovesse continuare a giocare così Per almeno metà del campionato Sarebbe veramente splendido Ma sappiamo perfettamente Che questi ritmi Sono molto difficili da mantenere Soprattutto in League 2 Che ci sono Due partite ogni settimana Praticamente Williams Allen Partita praticamente finita Numero 12 Si allarga La mette in mezzo Pier Gianni Allontana Riuni La controlla È il 92esimo adesso E vinciamo 3 a 0 Contro il Forest Green Al Moor Lane Si sta vedendo Che stiamo prendendo la mano Con la difficoltà ultimate Troppi 3 a 0 Troppi risultati rotondi Poi vedremo un po' in futuro Cosa fare Comunque con le sliders E vabbè Comunque dobbiamo essere felici Perché stiamo passando Un periodo di forma splendido 22 punti in campionato Per noi Veramente bene Eccoci qua Ultima conferenza Post Ultima intervista Post partita Di questo episodio Perché Wiseman non ha giocato Ma perché dovrebbe giocare Wiseman sta calando tanto Un giocatore Che non mi ha fatto Impazzire Prima viene la squadra Il mio obiettivo è vincere Per raggiungere Lo metto sempre La squadra al primo posto Ogni partita richiede Un approccio diverso E così via Giusto La squadra sono forse Di imbattuta Fin qui Ma non è vero Ma perché Perché queste domande Deve essere riuscire a proseguire Questa striscia Ma non è vero Non è vero Non deve diventare Un'ossessione Schippiamo Ma non è vero Che siamo imbattuti Come si sente Ad aver praticamente Condannato La squadra forest green Alla retrocessione Voi siete fortunati A non vedere La mia faccia In questo momento Andiamo avanti Alla Undecisione Di campionato Avete condannato La squadra forest green Alla retrocessione Ok Eccoci qua Riso conto Giovani talenti Disponibile E vediamo un po' Cosa c'è Connor Morgan Rifiuto a giocatore Peter Kelly Rifiuto a giocatore Reese Robinson Reese Robinson Sono un 47 E c'è di giovani Quindi niente di che Inviamo da un'altra parte Il nostro Lewis Davis E lo inviamo Per tre mesi In Scozia Eccoci qua Scozia Perfetto Per tre mesi 90.000 Beh Benjamin Negren Un bel giocatore Lo mettiamo Nella lista preferiti E adesso Andiamo a vedere Un po' Se ci sono Tanto Polukov è stato Convocato Con la Bulgaria Tanto per dire Vediamo un po' Se ci sono stati Dei nuovi aggiornamenti Sì Allora C'è questo Ilya Gruef Che Però non mi sembra Chissà che Luke Yorst No Morris Bronny Quarteng Neanche Vabbè Linton Maina È Troppo Troppo Forte per noi È impossibile Che lo Riusciamo a prenderlo Kubler No Class No Narte Lo conosciamo D.A.V.C. È un bug Supremo Oskan Non sembra Malaccio Anzi Però in prestito Riss Oxford Straconosciuto Vediamo un po' Invece in Turchia C'è Arda Kisildag Che sembra Essere interessante Poi Turp Non più di tanto Ramitulla Berisbeck No Dormus Neanche Questo Ogus Kagan Guztekin No Direi No Aktas Nemmeno Kafer Tosun Dovrebbe essere Un capellone Se non erro Kafer Tosun Non mi spiega Però Poi Komur Conosciuto In Olanda Invece Qualcosa Di nuovo No Siamo sempre Sempre La Sempre Gli stessi Infine Poi in Belgio In Belgio Sempre Gli stessi Anche qua E niente Questo Era un altro Episodio Della nostra Carriera Allenatore Con il Solford Ragazzi Ringrazio Per la Visione Di questo Video E niente Che dire Siamo Primi In classifica 22 punti Stiamo Viaggiando E adesso Anche con Comunque La Velocità Di gioco Lenta Non mi è Sembrato Chissà Che Lento Il gioco Diminueremo Credo Anche la Velocità Tiri E Passaggi Noi Ci vediamo Alla Prossima Ciao a tutti Ciao